Da Napoli a Bari per truffare un pensionato 79enne dal quale erano riusciti a farsi consegnare quasi 1000 euro, ma sono stati beccati da una rapida indagine degli agenti della squadra mobile che hanno arrestato il più grande denunciato in stato di libertà, il minorenne che lo accompagnava. Secondo quanto ricostruito i due, avevano avvicinato l'anziano ieri pomeriggio dicendo che avevano bisogno di 1000 euro come saldo per un ipotetico pacco che doveva ritirare per conto del nipote. A rendere tutto più veritiero, i presunti truffatori sono riusciti ad ingannare il pensionato facendolo parlare al telefono con una persona che si è finta al nipote e che gli aveva chiesto di ritirare il pacco da un corriere e anticipare la somma di denaro la cui iniziale richiesta era molto più alta, di quasi 4000 euro. Convinto al 79enne, si sono dati appuntamento davanti a uno sportello bancomat in via Luigi Ricchioni. La polizia, da giorni attiva per prevenire le truffe agli anziani, ha riconosciuto su quella strada i due sospettati che viaggiavano a bordo di un'auto presa a noleggio. Pedinati sono riusciti a coglierli nella fragranza della truffa nel luogo dell'appuntamento. Il minore è sceso dall'auto e nel momento in cui è intascato la somma di denaro è stato bloccato dai poliziotti. Il più grande, vista la situazione di pericolo, ha ingranato la marcia dandosi alla fuga. La polizia, dopo un raccambolesco inseguimento, lo ha bloccato su Viale Unità d'Italia.